Alla fine dell'ultima lezione vi avevo lasciato qualche compitimento. Il primo era modificare questa istruzione in modo che il camuso trovato non fosse il primo in questa stringa, questo, ma questo. E' sufficiente cambiare il punto d'inizio della ricerca indicato al comando find, al metodo find, in modo tale da bypassare, da saltare questa prima occorrenza di camuso. Per cui potremmo far partire da questa posizione, al limite anche da quella prima, o al limite anche dalla C stessa. Se non ricordo male, questo camuso inizia a posizione 19, quindi dovrebbe essere sufficiente a mettere 20. Poi però facciamo cercare camuso. Mandiamo in esecuzione. Ho anche aggiunto questo ritorno a 0 per bloccare qua il programma. Non trovato. Come mai? C'è un errore? In realtà no. Abbiamo appena scoperto che il metodo find è, si dice, case sensitive, cioè fa differenza tra minuscole e maiuscole. Questo camuso, dal suo punto di vista, con questo criterio, non è uguale a questo perché c'è la C qua maiuscola e la minuscola. Riproviamo con la C minuscola e voilà, l'abbiamo trovato. Vi avevo poi chiesto di verificare cosa succede se mettiamo come punto iniziale della ricerca un numero che eccede quello dei caratteri della stringa. Mettiamo, che so, 200, che siamo sicuri. Manda in esecuzione. Semplicemente non trovato. Quello che ci interessava a verificare è, ma il programma va in crash, ha dei problemi? No, semplicemente non trovato. Ed anche un numero negativo non crea problemi. Rimetto 0 perché proviamo l'altra cosa che avevo chiesto, e cioè le stringhe nulle, quelle contenenti 0 caratteri. Se, cambio un attimo, metto S1 qui e reintroduco S, ma come stringa nulla, cioè vuota, che cosa succede? Di nuovo, semplicemente non trovato. Ed è giusto che sia così. E nessun problema, anche se diamo come stringa di ricerca invece, stavolta facciamo questo cambio, anzi proviamo anche con vuoto vuoto. Con vuoto vuoto dice, sì, ho trovato il vuoto alla posizione 0. D'accordo, ha una sua logica. Invece, vediamo se cerca vuoto, cambio un attimo, così, in una stringa che non è vuota. Ecco, abbiamo quindi trovato un punto d'attenzione perché dice trovato. Dovremmo stare attenti, quindi al limite a controllare la stringa cercata. Va bene, direi che è arrivato il momento di completare l'esercito d'azione, quindi vado a commentare questo pezzo, ctrl shift c, mi sposto sotto, questo è il nostro file contenente l'orario scolastico, cercheremo questo prof, qua abbiamo tentato di agganciare, di aprire il file, qua controlliamo se è valido, se è valido, questo codice, questo scheletro di codice, al momento è pronto per leggere e far consumare qui nel corpo del while ogni riga letta col comando get line dal file F. Come avevo anticipato nella lezione precedente, la soluzione, una delle possibili soluzioni, è quella di usare un ciclo while più interno, anche questa parte di codice però fa parte del nuovo, che continua a spostare avanti di uno, lo vedete qui, la posizione iniziale di ricerca, sto usando la variabile cerca da posizione, che ogni volta che trovo un camuso, viene posizionato come valore intero, uno dopo quella C di camuso, questo più uno in fondo, ma vediamo in dettaglio, prima del ciclo viene assegnato 0 alla variabile cerca da pose, quindi si inizierà a cercare dalla prima posizione della stringa, e il ciclo while continua finché il comando find, a cui si chiede di cercare il tal prof, partendo da questa cerca da pose, non ci dice che non ce ne sono più, che cosa si fa? Si incrementa le ore di insegnamento, perché se entro nel ciclo while, vuol dire che questo comando di ricerca, partendo a cercare da qui, ha trovato da qualche parte il prof, quindi più uno alle sue ore insegnate in questo istituto, poi dobbiamo spostare avanti di uno, dalla posizione in cui abbiamo trovato adesso il prof, il punto di ricerca, altrimenti continueremo a ricercare, a ritrovare all'infinito la stessa occorrenza del prof, del nome del prof. Aggiorniamo quindi cerca da pose, è il valore in cui abbiamo trovato, e quindi sto ripetendo la ricerca del nome del prof, e poi aggiungo uno. Chiaro che qua c'è una perdita di tempo, perché questa ricerca, che abbiamo già fatto qui, dobbiamo poi trovare un modo di evitare questo sovraccarico di lavoro, però la logica adesso è molto pulita, molto chiara, e il codice è semplice. Ci spostiamo qui alla destra dell'occorrenza appena trovata del nome del prof, e così via, si va avanti. Questa ricerca poi partirà un carattere dopo, se trova, si entra un'altra volta ad incrementare il totale delle ore di insegnamento, si sposta avanti di uno il punto della ricerca, e così via. Ad un certo punto o si esaurisce la stringa, oppure la stringa non viene più trovata, intendo quella del nome del professore. Questa condizione quindi diventerà falsa, non è più diverso da string and pose, ma diventerà uguale il risultato della ricerca, e uscirà dal ciclo. E potremmo stampare che il prof insegna tot ore, insegnamento ore in questo istituto. Proviamo? Ci siamo. Insegna 6 ore. Risultato assolutamente non scontato, guardando a colpo d'occhio il foglio Excel contenente il quadro dell'orario. Sì è vero, ci sono particolari da tenere conto, ma allora se il nome del professore qualche volta è stato scritto in minuscolo, si può gestire, si può gestire, adesso però non vorrei esagerare con questi dettagli, magari ve lo lascio come esercizio. Mi interessa piuttosto vedere come è possibile ottimizzare dal punto di vista computazionale questo algoritmo un pochetto. Qua abbiamo due volte la stessa elaborazione, perché il nome prof e cerca da pose sono le stesse qui e qui. Doppia ricerca. Una possibile soluzione ce la offre l'operatore di assegnamento, che in realtà va a costituire un'espressione, cioè quando noi scriviamo questo, cerca da pose assegna 0, la parte che ho evidenziato è un'espressione. Qual è il valore di questa espressione? Beh, il valore stesso che viene assegnato alla variabile. Allora, il problema è di assegnare a cerca pose, d'accordo, questo valore, facciamolo qui, si può fare, cerca, quindi while cerca da pose assegna il risultato della ricerca, vedete che automaticamente ci ritroviamo comunque con questo valore, perché abbiamo detto, è un'espressione quando c'è di mezzo all'assegnamento. Qual è il valore di questa espressione? Il valore assegnato alla variabile, come lo 0 qua sopra. Qual è il valore assegnato alla variabile? Beh, il risultato è la ricerca, quindi la parte evidenziata come valore di espressione è ancora il risultato della ricerca, che andiamo a confrontare con string and pose. Quindi, dal punto di vista del controllo per il while, stiamo facendo la stessa cosa. In più, stiamo già assegnando a cerca pose il risultato. A questo punto, qui non dovremo perdere tempo a cercare una seconda volta, ma semplicemente incrementare di uno, cerca pose. C'è un piccolo particolare però ancora da curare, perché non dobbiamo dimenticarci che lui potrebbe, anzi, sotto questo, confrontare questo con questo e assegnare il risultato a cerca da pose. Allora, per evitare problemi basta aggiungere le parentesi, il valore di tutta questa espressione, quindi prima fai questo assegnamento e poi il risultato confrontarlo con string and pose. Manda in esecuzione ed ecco il nostro prof chiari che insegna sei ore in questo istituto. Ricomincio qua dall'inizio. Beh, la parte commentata forse potete anche risparmiarvela. Qui si comincia ad aprire il file. La parte col while. La chiusura e la stampa. Avete visto? Con una ventina di righe abbiamo risolto un problema davvero non banale, non scontato. E con questo vi do gli auguri di buon inizio 2015 e vi do l'appuntamento alla prossima. A risentirci.